Prima di morire, lascio per testamento il mio patrimonio ai miei tre figli, primo, secondo e terzo, che lo dovranno dividere in parti uguali. Primo e secondo accettano l'eredità, terzo invece vi rinuncia. Terzo a sua volta non ha dei figli e io, testatore, quando ho redatto testamento, non ho previsto alcun meccanismo di sostituzione per colui che non potesse o non volesse accettare l'eredità. Cosa succede in questo caso? Che la quota che sarebbe andata a terzo si espande automaticamente in favore di primo e di secondo. Quindi se all'apertura della successione il mio patrimonio è di 90.000 euro, le quote per primo e secondo non saranno di 30.000 ma di 45.000 euro. Questo fenomeno si chiama accrescimento. Buona giornata a tutti, ciao!